Buongiorno a tutti, allora Filpettina da Brun che freddo che fa ma non dobbiamo parlare di sci gare ma di topolone perché era un video che ho fatto più o meno quattro anni fa nel 2018 ed era le più belle sciatrici del circo bianco cioè sci alpino, sono passati quattro anni quindi ci sono alcune sono rimaste altre si sono ritirate restano delle belle topolone ma ormai non sciando più non rientrano più nel novero anche se restano delle belle topolone e quindi ho scelto una decina di squadre visto che settimana prossima iniziano le olimpiadi diciamo quelle che hanno un attimino più di sciatrici non è che vado a scegliere una 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 se no non finiamo più ho scelto una decina di nazioni tutte le sciatrici più o meno anche perché Svizzera e Austria che ce n'è una marea e lasciamo perdere ma quindi bando alle ciance ciancio alle bande partiamo con le sciatrici italiane quelle che magari conoscete meno e naturalmente nominerò anche quelle più famose quelle che stanno ottenendo già dei bei risultati quindi magari le conoscete molto di più quindi partiamo dalla Laura Pirovano che io ho segnato come ma che bellina ma che bellina la Laura Pirovano una bella biondina devo dire mica da ridere e poi c'è lei e poi c'è lei che magari dei risultati non è ancora ottenuti di buoni ma è che è buona è buona ma quanta è buona come dicono giù la Roberta Melesi o Melesi ma è una sciatrici o una modella no perché veramente io ho visto le foto su Instagram della Roberta Melesi ero lì che diceva la Madonna ma cosa sei ma cosa sei una modella poi vabbè abbiamo la Marta Bassino la Federica Brignone la cortoniere le sorelline del lago cinque topolone che è proprio chi ti capita capita cadi cadi proprio in piedi perché veramente la fede la sapete io ho un debole per Federica Brignone però anche le altre sono tanta Roma sono tanta Roma le sorelline del lago poi le adoro e vabbè poi dopo c'è la Lara della Mea che il qua ho messo a però mica male la sciatrice perché anche la Lara c'è il suo bel perché poi vabbè la Sofi e la Sofi mi ero dimenticato la Sofi e la Franceschina Marsaglia e devo dire signori la Franceschina Marsaglia ho visto le foto su Instagram è una topolona anche lei che Franci e la Sofi quando si mette a parlare con la R Moscia la R Moscia che ti arrapa arrapa comunque sciatrice italiana è promossa a pieni voti e non solo perché sono connazionali nostri andiamo alle sciatrice francesi che ahimè mi hanno lasciato abbastanza con l'amarulino in bocca proprio l'amaro l'amaro del del cervo perché veramente ci sono rimasto veramente molto 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 male si salva la Miradolì Romain Miradolì che è una gran bella ragazza e la Vorlè e la Tessa Vorlè che sì è caruccia la Gosce Laura si salvicchia la Nuan Anastasia o Snastassia e la Frasse non sono becora lì ni ho messo come anche la Tiffany Gautier che uno sente Tiffany Gautier minchia già Tiffany uno si immagina da Topolona da Pao e invece ni ni e la dire clara proprio no no però da qui a dire che è brutta assolutamente no però diciamo che non ti acchiappa ecco le francesi ecco ci sono rimasto un attimino male comunque vi metterò un video che fecero anni fa per pagarsi la trasferta a Ushaya nove sciatrici francesi fecero un video in bichini in cui poi scendevano anche con gli sci quindi ci sono anche congelate mezze e devo dire che ecco ci siamo capiti però vedendole così mi hanno lasciato un attimino basito andiamo alle Svizzere qua e qua diciamo che c'è un rimbalzo tra quelle che pina ti apri in due come una mela e altre che dici bah comunque partiamo subito con la Linda Gnot che devo dire ho scritto iniziamo bene Biondona perché veramente la Linda Gnot è un bel figotto che fa anche rima poi c'è la Jasmine Fleury e ho scritto proseguiamo meglio perché va bene poi abbiamo la fidanzatina la tederina la coccolina del il buon Daneprandini Michel Gisin e io lì ho messo coniglietta coniglietta perché la Michel Gisin è una coniglietta tutta da coccolare poi vabbè c'è la Lara Gut Berami che sto crepando di invidia per Berami che dice ogni volta che vedo Lara Gut penso a Berami e gli faccio un applauso perché si è beccato una topolona spettacolaus proseguiamo proseguiamo dopo Lara Gut Grandelibì tanta roba con la Wendy la Wendy Holden io con Wendy Holden uscirei a cena ma proprio poi magari non riusciamo a colloquiare perché parla solo tedesco io sono nella curucu che il tedesco non lo so ma Wendy Holden è una ragazza con cui uscirei ma anche solo giusto per uscire farci una chiacchieratona una mangiatona eccetera poi ognuno a casa propria perché figurati se Wendy Holden viene ma giusto perché con Wendy tu passi una serata bella bella stai bene passi una bella serata con una bella ragazza simpatica allegra spiritosa eccetera eccetera Wendy Priscanuffero ho messo un nì caruccia ma diciamo che non mi ha acchiappato più di tanto ecco chi mi acchiappa è Corinne Sutter che io la chiamo diavoletta è irresistibile se voi vedete le gare di scile mettono una foto in cui c'è uno sguardino che è di quelli proprio sono un diavoletta e tu non puoi resistermi ti frego l'anima come 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 bere un bicchier d'acqua perché non puoi resistere al mio sguardo ingannatore incantevole eccetera eccetera cioè veramente Corinne Sutter c'ha tanta roba poi c'è la Andrea Ellenberger che io pensavo fosse austriaca o tedesca invece era Svizzera e ho messo bella ma proprio bella bionda bella bella bionda e poi non diciamo altro perché è meglio la Helen purtroppo ho messo più brava che bella mi spiace dirlo ma è più brava che bella la Melanie Meliard sorella dell'altro Meliard è biondona ho messo biondona 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 la Camille Rush che è il futuro dello sci femminile svizzero che attenzione alla Camille Rush tra un anno sarà molto molto insidiosa per tutte e ho messo bella pazzerella e infine la Elena Stoffel ho messo tanta roba perché veramente anche la Elena Stoffel è un bel fighino proseguiamo con la vera libidine proprio quelle che proprio ti fanno fai come il lupo di cos'era quel film della coniglietta e non mi ricordo più che c'era il coniglio che andava dietro la coniglietta e non mi viene in mente comunque andiamo alle austriache partiamo con la Grish che ho messo un sì bello col punto esclamativo perché Riccarda Aser ci avrà un nome che io non ho capito come cazzo si fa chiamare la figlia Riccarda veramente non ho parole però la Riccarda Aser è veramente una gran bella ragazza la Cornelia Uther che tra l'altro ha finita a pari merito nell'ultima gara con il super gigante con Federica Brignone ha vinto assieme altra gran bella ragazza Caterina Lisberger la mia sorrisona proprio veramente un'altra ragazza con cui uscirei volentieri a cena ma esco a cena ci fai la chiacchierata eccetera poi ognuno a casa propria perché figurati se Caterina Lisberger che ci avrà 21 22 23 anni quello che è Cipi Rimerlo però veramente deve essere una ragazza simpaticissima Chiara Maier pensavo pensavo peggio perché nelle foto è sempre lì con sta faccia da Cristina di Ricci di mercoledì invece poi vai a vedere le sue fotine devo dire che è tanta robina anche lei Purtroppo la figlia di Hurtle non gareggia infortunata da gennaio 2021 Christine Scheier è un'altra bella ragazza Poi abbiamo lo scricciolo Nicole Smidoffer che è rientrata a novembre ma poi ha deciso per questa stagione di saltare e di ripartire dall'anno prossimo Poi abbiamo la Caterina Trooper che io ho messo casa nella pratteria perché assomiglia a Nellie Olison Cioè è sembra la sorella di Nellie Olison avete presente la casa della pratteria Nellie Olison quella antipatica con Bionda eccetera la figlia della Olison che ha l'emporio eccetera Ecco lei è la sorella bella nella nella poi abbiamo la Ramona Sibenhofer cosa gli vuoi dire Ramona si già una che si chiama Ramona ti ti acchiappa Tanta roba anche lei Poi abbiamo Tamara Tipper che io chiamo occhi di ghiaccio perché ha due occhi azzurri Che sono azzurro Quell'azzurro proprio da pubblicità dell'acqua minerale che vai a prendere in montagna ecco per intenderci La Christina Hager Altro spettacolo Poi vabbè la Stephanie Bruder è il top Del top Del top della topa Perché veramente la Stephanie Bruder è tanta roba La Nadine Festa anche lei è Tanta roba ragazzi La Galluber invece sembra la sorella di Martin Feldman C'ha due occhioni azzurri grossi C'ha due fanaloni al posto degli occhi Azzurrissimi Caterina Hager l'ho chiamata Acqua e Sapone Perché proprio è la ragazza della porta a quella che tutti vorrebbero come vicina di casa L'Elisa Morzinger Tanta roba La Miriam Puckner invece è più dolcezza che bellezza Più dolcezza che bellezza ma anche la Miriam Puckner Chi invece mi ha lasciato un attimino così così è l'Arianda Rarer che ho messo carucce Ecco diciamo che forse forse è quella meno 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 Però è un meno, cioè sei la meno bella tra le modelle, tra le idee ecco per intenderci La Maria Teresa Sporer E in me ho messo Laikerem Ni Quindi Ni vuol dire che Ni non mi acchiappi La Lena Dürr l'ho messo carina Si salva la Hilsinger Non c'è dai la Kira La Kira è caruccina Andiamo in Norvegia La Kira è carina Bellina bellina Come direbbero in Toscana ma che bellina che sei ma sei proprio bellina bellina Poi la Ragnilmo Winkel Già chiamarla Ragnilmo Winkel E io l'ho messo Vichinga 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 Poi abbiamo la Thea Louise Tjerneson che io ho messo attrice La Thea Louise Tjerneson potrebbe fare tranquillamente l'attrice Perché veramente fa libine Ecco fa libine Mentre invece la Maria Teresa Twibeck ho messo ragazzona Avete presente quelle belle ragazzone Belle stagne Belle sportivone La classica sportivona che ti acchiappa Andiamo in Svezia dove abbiamo la figlia d'Arthur Estelle Alfann E ho messo Stellina Ci si chiama Estelle È una stellina È una stellina Una stellina Poi abbiamo la Helfmann Aronson Hanna O Aronson Helfmann Hanna Caruccia Caruccia Niente di che L'Elsa Vermeick Ho messo carissima e dolce La Loblom Ilma ho messo carina La Saffenberger Charlotte ho messo svedesina La classica svedesina Con i trecini eccetera eccetera Caruccia dai E infine L'Anna Svellarsson è la Castorina Scogliattolina perché sembra proprio uno scogliato Andiamo negli States Negli States Vabbè abbiamo Sua Maestà Quindi basta e avanza a Sua Maestà volendo Però Diciamo che qualcuna Ha colpito particolarmente Certo Arrivare al livello Sia fisico Che di bravura Tecnico-tattica Della Schifrin È difficilissimo Però L'Aquila Cashman ho messo caruccia L'HT Hensel ho preferito non dire nulla Ecco ci siamo capiti Non è giusto fare Non diciamo nulla No comment L'Atrisha Mangan caruccia La Paola Molzan ci piace Ci piace parecchio La Paola Molzan ci piace Ci piace L'Anina O'Brien ho messo Beh la bionda eccetera 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 Micaela Schifrin ho messo Sua Maestà Bisogna sempre inchinarsi a Sua Maestà La Jacqueline Blythe ho messo carina E poi signori c'è la sorpresa Quella che non ti aspetti Isabella Wright Isabella Wright è la risposta americana in moro A Micaela Schifrin Perché Isabella Wright è proprio una bella morettina Proprio che ci piace Ci piace parecchio Andiamo in Canada Dove in Canada Devo dire che siamo messi abbastanza bene Partiamo con lei L'amicona delle italiane Maria Michelle Gagnon E lì ho messo Bella Topolona Perché non puoi esimerti da mettere Bella Topolona A Maria Michelle Gagnon Perché è una bella Topolona La Valérie Grenier Ho messo Bellina la Biondina Ma sì ma guarda che Bellina la Biondina L'Aerimbiezistico ho messo Ah però Mi canale l'Aerimbiezischi Mi fa libidide L'Ali Duhlmeier Che avevo messo anche nel video di quattro anni fa Bellina Bellina La Roni Remme O Remmeroni È una bella ragazzona Bella ragazzona Bella stagna Che ci piace L'Amelie Smart L'ho considerata Ragazza della porta accanto Proprio quelle ragazze Che tu apri la porta Ce l'hai come vicina di casa E dici Minchia che culo Che c'ho E infine La Lauren Saint Germain Non riesco a Inquadrarla Ecco per intenderci Non riesco a capire se è Non mi acchiappa Mi acchiappa È carina Non è carina È bellina Non è bellina Cioè Quelle ragazze che dici Non è brutta sicuramente Non è figa sicuramente Ma non sai dove metterla Tra brutta e figa In che posizione metterla Tra brutta e figa Detto questo Andiamo in Slovenia Concludiamo con le Slovene E lì signori miei c'è lei È lei O non è lei È lei Non è lei Certo che è lei Anna Bucic Anna Bucic Mi acchiappa un casino A me la Anna Bucic Mi acchiappa un casino C'è poco da fare Poi abbiamo la Duornik Nezha Caruccia Caruccia La Fer Sajoni Si è anche sposata Col Sajoni Che è un Scarso crinito Come me Ho visto le foto Del matrimonio Perché è stata Una lunga nottata In cui ho dovuto È È uno sporco lavoro Ma qualcuno lo deve fare Ho dovuto vedermi Tutte le fotine Di queste ragazzone Per farmi un'idea E devo dire che La Fer Sajoni La si può definire ragazzona La Meta Robat Vale lo stesso Ricorso che facevo Per la Laurence Saint Germain Non mi dice nulla Non la posso dire Non posso dire È brutta Perché non lo è Assolutamente Non posso dire È una modella È una figona Eccetera eccetera Perché Non mi sembra E quindi Non mi dice nulla Come non mi dice nulla La Tina Rob Carina È carina Ci mancherebbe Cioè Averne Uno si trova La Tina Rob Nuda nel letto Dice minchia che culo Però Se deve scegliere Magari preferisce Una Nabucic Capisce a me La Sloca L'Andrea Gli Osloca L'ho messo Dolce dolce Perché io ho visto le foto Sembra una Una bambolotta Ecco Tutta da coccolare Tutta dolce Bella Dolce E infine Lil Castue Che è la Ricciolona Per eccellenza Perché tra lei E la Brignone Non so chi è più riccia Ma forse vince lei Perché come ricciolità Come bellezza Non lo so Però è ricciolona È ricciolona Infine Visto che comunque La Slovacchia Ne ha poche C'è lei C'è L'unica Che sta provando A resistere Al dominio Di sua maestà Micaela Schifrin Che è Petra Vlova Signori Petra Vlova È tanta roba È la risposta Bionda Mora A sua maestà Ragazzona alta Bella 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 Perché bella Bella Brava Eccetera Eccetera Quindi Non potevo esimermi Da mettere Petra Vlova Anche come estra Ecco Come bonus Visto che è la Slovacchia Poi le altre due Poi ci sono Tutte le altre squadre Vanno una 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 Due Due Tre Eccetera Non le potevo mettere tutte Se no non finivamo più Bene ragazzoli Io vi metterò la lista Di tutte le ragazze Nell'infobox sotto Nel Nel Così poi Almeno avete L'elenco Di come sono Sono andato Potete andarvele a vedere Io non metto foto Perché non si sa mai Perché Get images Mica Get images Il copyright Mica copyright Poi rompono I testi E visto che Per un titolino Stupido Mi hanno bloccato Per tre mesi Le dirette A me che non le sto facendo Però Magari decido di rifarle Mi bloccano tre mesi Ci peri merlo Vedremo Vedremo Detto questo Fatemi sapere Se voi avete Una sciatrice Che vi acchiappa Più delle altre Se magari qualcuna Che io Magari ho detto Che Non è caruccia Vi acchiappa Eccetera Eccetera Aspetto I vostri Commentini Ciao